Ciao a tutti, oggi apriamo in un modo diverso tre ball, una per tipo, delle serie nuove Super unboxing! Super unboxing a sei mani, faremo a turno, abbiamo Alice, Isabelle e io qua, Sandra Apriamo uno strato e poi la passiamo, cerchiamo di non guardare ognuno cosa trova E alla fine scopriremo cosa abbiamo trovato mettendo insieme tutti i pezzi Ok, bene Pronti? Attenti? Via! Ecco l'indizio, Isabelle? Sì Vai, questi sono gli indizi, pronti? Appoggiate l'indizio dove non lo vede l'altro Io lo do l'Alice Giro E io lo do l'amma Ok, seconda io Aspettate! Adesivini! Bom! Giro, l'Alice E l'Alice mi dà il voice Che cacchetto E l'Alice E l'Alice E l'Alice Ahahahah Ahahahah Aaaaaah Bom! Cambio? Non ci siamo separati? Cambio Cambio Però li stai tenendo separati No, no, li mettiamo insieme dopo, dai Devo fare così? Ok Ciao 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 Sì 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 Hai capito chi è adesso? Sì C'ho capito io Anzi, ancora ha capito Manni non zijn ankey sexie Eh?KK in un momento tu lo vedi, capisci? ecco qua, ecco qua le mie fratezza ma chi la passa questa alice? mamma, questa qua chi la passa? passa passa guardate facciamo i polsini vai, apri qua? si no io sono contentissima Elisabeth, che hai trovato? iiiiho alla lice piace questa perchè è una ginnasta io ho una che assomiglia a quella che canta Dark Horse infatti è lei, è Katy Perry ah ecco mi hai detto che era Katy Perry e cowboy Katy Perry adesso li vestiamo qua tutto quello che abbiamo trovato questi e li facciamo un mix questi questi allora di sicuro questa è di questa ginnasta wiii rifacciamo gli abbinamenti questo è il cowboy questo è di questo questa è di questa il cowboy questa è di questo no questo questo è di questa questa ma non li sta? ma si che li sta la mettiamo questa è di questa gialla un vestitino questo è quello che abbiamo trovato ecco e abbiamo finito una famiglia almeno salutiamo tutti ciao è vero dai ciao ciao ciao